Musica Dopo due settimane di assenza ci ritroviamo nuovamente qui nella casa comunale di Battipaia sempre in compagnia della sindaca Cecilia Francese che ovviamente saluto Ciao E insomma c'è stato un po' e po' da fare in queste settimane anche con la problematica compostaggio so che c'è una novità in merito ma di natura insomma colloquiale con un sindaco di un'altra città no Cecilia? Sì sì ci siamo messi in contatto con il sindaco di Casalduni Pasquale Iacovella si chiama Pasquale Pasquale Molto voglio dire siamo subito intesi perché la battaglia è in comune lui mi raccontava che anche lì loro hanno uno stir hanno dovuto subire la presenza di uno stir con ecoballe che si sono addirittura bruciate qualcuno e anche lì lui ha fatto richiesta di accesso agli atti alla provincia perché anche lì è stata la provincia che si è candidata ci dovremmo vedere a breve perché lui ha chiesto un incontro conciunto con il presidente della commissione Terra dei Fuochi Cozzinzi e penso che in settimana ci dovremmo accordare per ripresentarci insieme alla regione non solo ma abbiamo avviato con il presidente del consiglio di Battipaglia il famoso consiglio comunale conciunto con tutti i sindaci della Piana del Sele e la data che abbiamo dato loro come disponibile potrebbe essere dal 9 al 15 gennaio per poter fare qui a Battipaglia il consiglio comunale conciunto di tutti i sindaci che sono interessati nel frattempo pare che parte lato sono riusciti a incontrarsi anche con il nostro rappresentante Gianluca Di Giovanni e dovrebbe partire lì e anche lì dicono che ci dovrebbe essere un incontro coi vertici ma sto aspettando che ci chiamino per poter ragionare sulle nostre proposte e insomma la guardia rimane sempre molto alta abbiamo anche fatto dei controlli recentemente anche nelle altre aziende e quello che noi chiediamo lo ribadisco a parte il sito di compostaggio unico della Piana del Sele gestito dal Sumbambito in cui Battipaglia è capofila o comunque da un consorzio dei comuni se non parto annoiato e soprattutto la riduzione del quantitativo di rifiuti che viene trattata nella Piana quindi la tensione è molto alta, siamo in contatto anche con i vari movimenti che stanno sorgendo a Eboli, addirittura Eboli forse faranno un referendum ma anche perché lì il problema non hanno un sindaco praticamente al 100% dalla parte dei cittadini e quindi loro devono fare qualcosa in più praticamente devono andare avanti con la richiesta di un referendum ma gli incontri con loro sono abbastanza frequenti e dunque la domanda riguarda anche un po' la regione loro comunque dopo quell'incontro in cui effettivamente hanno mostrato abbastanza indifferenza anche durante quella tavola rotonda ovale insomma com'era e abbiamo visto appunto che da parte loro non c'era nessuna apertura a seguito dopo quell'incontro non c'è stato nessun tipo di contatto diretto con la sindaca? No, contatto diretto assolutamente no questo è il... sappiamo che hanno intenzione di rincontrarci almeno sono voci ma... Ufficialmente non è arrivata nessuna richiesta L'unico nostro contatto è stato con il dottore Coscia che è il presidente del lato e con Gianluca Di Giovanni che è il nostro rappresentante a cui ho detto che voglio solo contatti ufficiali e non ufficiosi o tramite lui cioè tramite il nostro rappresentante perché qua ognuno un giorno viene ci sono gente che bazzirà nel comune ti chiameranno, ti facciamo sapere, noi stiamo lavorando cioè voglio dire io so l'amministrazione che cosa sta facendo con le idee molto chiare con anche i rappresentanti del movimento e non solo quello ci sono a Battivaglia due o tre movimenti sabato anzi ci sta un convegno al centro sociale dove ci saranno gran parte dei rappresentanti dei Cinque Stelle dove siamo invitati cioè voglio dire noi stiamo lavorando a 360 gradi per cui devo dire che i partiti sono un po' assenti sulla questione nonostante stiamo sotto la campagna elettorale E questa è la domanda che mi viene da fare non c'è il timore che magari tirandola un po' troppo per le lunghe si arrivi a dopo le elezioni a quel punto si perde il potere elettorale che noi abbiamo noi infatti non la stiamo tirando troppo per le lunghe ti ho detto i prossimi appuntamenti loro sì, io penso che ci saranno riflettendo noi stiamo aspettando questo invito perché il sentito dire sicuramente non è una cosa che mi appartiene quando devo fare una cosa la faccio e basta noi ci stiamo muovendo di qui ho risolto anche il problema delle chiavi ho detto perché qui non si può perché è struttura pubblica non si può dare il pubblico se faccio il sindaco mi prendo le mie responsabilità ho detto alla dirigente di prepararmi una qualche cosa in cui firma la sindaca visto la situazione contingente e visto che praticamente c'è un comitato un fermento cittadino che preme sta dando una mano per la battaglia sui rifiuti qui nella Piana del Sele il sindaco dà la chiave penso di darla direttamente a Cucco Petrone in modo che lui sarà il responsabile della chiave apre e chiude l'unico problema che noi avevamo ora erano la situazione natalizia perché tu sai benissimo che nella DMI ci sta una serie di esposizioni e quindi avevamo la difficoltà c'è la biblioteca che invece non è interessata da queste attività per cui ci prendiamo la responsabilità voi denunciatevi non fa niente insomma e invece per quanto riguarda entrando proprio nel merito della politica del comune insomma in senso stretto il bilancio lunedì si voterà il bilancio consolidato c'è stato un po' di polemica insomma possiamo chiarire questa situazione potrebbe creare problemi all'ente oppure il percorso è chiaro allora noi abbiamo fatto ieri dicevo appunto a Basalluzzo Antonella di preparare un comunicato preciso perché c'è molta confusione qualcuno ha utilizzato il bilancio come se fosse il bilancio del comune la Corte dei Conti eccetera eccetera il bilancio consolidato per la prima volta nella storia degli enti locali arriva in consiglio comunale e non si capisce neanche perché arriva in consiglio comunale perché è come se fosse una presa d'atto non ha niente di politico ma è solo un fatto amministrativo in cui si mette a confronto il bilancio del comune che è il capofila di tutti il riferimento di tutti gli altri enti dove noi o abbiamo una partecipazione tipo l'Asis c'è il bilancio dell'Asis le partecipate nostre per cui Alba ci sta nuova in liquidazione ci sta la i vari bilanci che sono stati già tutti approvati e quindi non è che noi dobbiamo approvare un bilancio il bilancio consolidato mette a confronto questi bilanci già approvati con quella che è la situazione del comune lì c'era stato un refuso insomma di un numerino che tra l'altro erano 147 mila euro non è che chissà rispetto a a bilanci milionari non è che chissà che era in cui poi il dirigente che è un atto del dirigente a uno a uno praticamente ha recepito tutte le segnalazioni fatte dai revisori dei conti qualcuna forse non era manco però devo dire che Pippo Ragone il dirigente a uno a uno ha fatto questa relazione per cui non ci sta niente noi prendiamo atto di questo bilancio consolidato del resto se non si vota per dire quanto non sia importante da un punto di vista politico se non si vota non c'è lo scioglimento perché non è il bilancio del comune dove tu devi votarlo causa scioglimento del comune è una presa ad atto di un bilancio e non si capisce ripeto perché arriva in consiglio comunale un atto del genere è la prima volta nella storia degli enti locali che si vota il bilancio consolidato seguiremo questa vicenda però appunto rilasci insomma diamo un messaggio di tranquillità perché sai che cosa è che voglio dire io capisco che l'opposizione deve fare l'opposizione poi non capisco neanche più qual è la vera opposizione o qual è l'opposizione a proposito di questo perché vuol dire questo è una è una critica che parte da quelli che una volta erano in maggioranza e che ora sono all'opposizione dell'opposizione cioè come si diceva centro-destra estrema-destra no è come se sono ancora al di là allora questo allora ho forse poi per esempio qualcuno si è lamentato che non sono stati chiamati alla discussione io l'ho visto virgolettato ma non lo so se è stato detto veramente o il giornalista ha virgolettato qualcosa allora questo sta a dimostrare che non l'hanno letto perché il bilancio consolidato non ha discussione è un assemblamento di dati che è tecnico è del dirigente e che arriva non si sa come perché molti se lo chiedono non io ma ti dico i coloro che studiano gli enti locali perché debba arrivare in consiglio comunale quindi non c'è discussione ma anche se ci dovesse discussione perché noi abbiamo fatto le riunioni per spiegare ai consiglieri che poi ci sono quelli che partecipano alle riunioni e quindi sanno che cos'è il consolidato e quelli che non partecipano ma che non si leggono neanche le carte in verità a proposito di questa opposizione dell'opposizione insomma i famosi pattisti ieri sera a Sud TV alcuni di loro sono stati presenti erano presenti e hanno deciso che si devono chiamare lealisti secondo loro lealisti verso chi? verso qualcuno verso l'esterno il popolo ok ora il discorso è questo loro hanno sottolineato che non sono interessati a una questione meramente di poltrone ma sono interessati alla realizzazione e alla concretizzazione del programma elettorale il programma elettorale noi lo stiamo svolgendo ampiamente come? e dovrebbero sapere perché dipende come tu vivi la vita politica se tu la vivi che viene ogni tanto e te ne vai non ti rendi conto di come si vive all'interno della struttura non è facile per chi fa politica veramente o che ha avuto modo di governare una città non è facile muoversi per la burocrazia che c'è piano piano voglio dire è vero che se tu stai all'interno di un comune da anni probabilmente gestisci meglio ma per il primo anno noi abbiamo dovuto cambiare una serie di cose e ci siamo riusciti io ricordo che praticamente noi abbiamo due dirigenti in più che si sono sveltite molte pratiche tutti gli atti che sono stati fatti anche ieri l'altro giorno dal 10 dicembre la freccia bianca che arriva che ferma a Battipaglia qualcuno poi ha avuto da ridire perché la gente si deve sempre lamentare però io l'avevo detto nell'incontro fatto a Roma sulla sosta della freccia non era ancora possibile ma non la escludiamo una volta che finiamo il più Europa però si erano impegnati i dirigenti almeno a far fermare la freccia bianca e a crearci le coincidenze con la freccia rossa se voi guardate io ho postato anche quell'orario noi abbiamo le coincidenze si può arrivare a Roma da Battipaglia in due ore e venti perché la coincidenza non te la fanno a Salerno te la fanno a Napoli e tu puoi prendere la freccia e arrivare a Roma in due ore e venti e come promesso ci danno la sosta della freccia bianca sono un piccolo segnale io non dico però è un segnale e voglio dire quel famoso giorno che rimanemmo a piedi era il giorno in cui siamo andati a incontrarci e stiamo ancora in rapporto con loro perché come finiscono i lavori del più Europa voglio dire si può entravedere qualcosa di più importante ancora per questa piana l'area di crisi complessa cioè voglio sapere questi signori chi è che ha iniziato questa battaglia questa battaglia che io l'ho iniziata già ai tempi in cui si chiuse l'Alcadel che dicevo a Santo Mauro chiediamo l'area di crisi chiediamo l'area di crisi visto che l'Agro Nocerino l'aveva ottenuta e noi siamo stati sempre fuori grazie alla nostra capabilità di questa amministrazione e di questa sindaca e voglio ringraziare sempre anche la CGL che ci ha dato una grossa mano la figura di Anzee Borbotte e non solo noi siamo riusciti e anche al Sessore Lepore siamo riusciti ad ottenere prima l'area di crisi ora l'area di crisi complessa in cui noi speriamo sono tante le persone che hanno soffruito del beneficio ma speriamo anche che ci sia un po' di linfa in più che molte aziende vedendo questa zona appetibile vengono a investire questi sono i grossi problemi col bilancio consolidato loro che si sentono tanto responsabili attuali venire a votare il bilancio consolidato perché se non votiamo il bilancio consolidato l'unica cosa che se non si vota è che non posso assumere quindi ho il 110 dell'ufficio tecnico già selezionato che devo assumere che però non posso assumere quindi se non voto il bilancio consolidato questo è un atto di responsabilità quindi se voi dite che è la macchina valenta che deve funzionare e soprattutto vi lamentate voi vi lamentate di vi lamentate di come vanno le cose della lentezza dell'ufficio tecnico e di quant'altro venite a votare il bilancio consolidato perché questo ci permetterà praticamente di l'assunzione del nuovo dirigente allora queste persone se stessero meglio all'interno perché poi se tu le analizzi a uno a uno guarda quante volte le vedi in questo ufficio e guarda che azione hanno fatto personalmente io voglio ringraziare i tanti consiglieri comunali che sono rimasti fedeli perché non c'è nessuno che non mi dia una mano a fare qualche cosa una cosa che io volevo caldamente non solo le deleghe esterne ma che i consiglieri avessero delle deleghe che personalmente cioè si dedicato questa è una cosa che volevo qualcuno all'inizio mi ha frenato qualcuno che mi ha di riferimento di altre persone una cosa che volevo a tutti i costi perché è importante grazie a questi consiglieri voglio dire molte cose si stanno sveltendo e non abbiamo finito qui perché come abbiamo la dimissione di Giampaolino che dovrebbe dimettersi a momenti è già pronto il bando per il nuovo amministratore di Alba e quindi abbiamo anche delle idee su Alba lo abbiamo detto in una riunione voglio dire ci sono riunioni noi lavoriamo chi partecipa può contribuire al confronto allo sviluppo alla nascita di nuove idee chi sta dall'esterno e continua a dettare a fare reclami ma non è una questione di giunta a me mi sa che voglio dire se tu prendi il primo documento e la prima conferenza a stamba tutto è partito da lì è come se è colpa della giunta che la macchina è frenata e non mi sembra sì questo loro hanno sottolineato e non mi sembra alcuni assessori non hanno lavorato e non mi sembra mi fermo qui se no poi dovrei andare troppo nelle polemiche sicuramente è una storia che per ancora discutere anche perché dovranno a un certo punto decidere se far parte realmente della maggioranza questa città deve andare avanti per cui voglio dire non ci si può fermare se si decidono poi oltretutto tra di loro vabbè fermiamoci qui sono una persona che non ho mai negato né un confronto né di parlare questo dicevano ieri che non gli era piaciuta la cosa che tu avevi invitato alcuni di loro e non tutti insieme me l'hanno chiesto alcuni di loro di parlare con me quindi insomma non è una richiesta qualcuno di loro dice tutto il contrario io ho le prove mi è stato chiesto un incontro e ho cercato di farlo sempre con altre persone proprio per evitare problematiche adesso però sono stati invitati tutti mi hanno chiesto un incontro tutti e otto c'è stato il presidente del consiglio che ha avuto contatti con loro oggi io alle quattro avevo appuntamento con loro vengo a sapere che ancora non è non è maturato il tempo non so quando sarà maturo noi non possiamo perdere tempo noi abbiamo le cose da affrontare la città aspetta ancora tante risposte e quindi praticamente stiamo al lavoro anche perché se ci si lamenta della lentezza magari è importante anche fare un incontro io voglio sapere questi sono sei mesi che vediamo con questa storia lentezza cioè voglio dire grazie a qual è il contributo che è stato dato da queste persone in questi mesi allora noi ci rivedremo ancora la prossima settimana e ci faremo gli auguri di Natale perché insomma tra tante cose magari uno si dimentica che siamo in clima natalizio le luminarie ci sono anche lì non le fai e dicono che non le abbiamo fatte le fai e dici pagano i cittadini scusate mettetevi d'accordo questo ormai ho capito che funziona così insomma però le luminarie ci sono l'albero c'è insomma gli eventi ci sono per quanto è possibile sì gli eventi sono anche interessanti c'è il fast food ci sarà ci sono tante bellissime iniziative che voglio dire io anzi mi scuso se è poco rispetto alle altre città però voglio dire noi non abbiamo questo c'era i fondi questo c'era però abbiamo chiesto ci sono dei fondi che potevano essere chiesti per i comuni tagliati fuori abbiamo già attivato la richiesta può essere che arriverà qualche cosa può darsi che arriverà qualche cosa e si possa aggiungere qualcosa intanto arrivano insomma tante cosettine le abbiamo fatte e allora noi ci rivediamo la prossima settimana appunto per gli auguri di Natale magari vedremo di avere anche qualche altro assessore approfittiamo un attimo di quel momento per fare gli auguri a tutta la è una cosa importante voglio dire a proposito che non si fa niente abbiamo venduto dopo anni il Palazzauli ah si è vero il Palazzauli il Palazzauli è importantissimo abbiamo venduto il chiosco dove sta Catino abbiamo venduto il Palazzauli era facile qualcuno ha avuto da dire come tu eri quella che non si dovevano vendere noi abbiamo un obbligo io mi sono trovata con il riequilibrio di bilancio che mi imponeva e ci impone la vendita dei beni che è stata data a garanzia da questo comune per evitare il dissesto questi beni per dire chi non ha lavorato questi beni erano stati dati in mano ad Alba abbiamo dovuto impiegare e voglio ringraziare non solo la segretaria ma soprattutto i sovrardinati che ci hanno dato all'epoca una mano enorme per cercare di recuperare quei beni finiti ad Alba non si sa come per recuperarli da noi sono andati in consiglio comunale e li abbiamo di nuovo recepiti quindi poi abbiamo venduto il bar da Catino e abbiamo venduto il palazzaule e voglio dire scusate se è poco perché è facile non solo mentre prima c'era una società a veicolo che doveva venderli noi senza società a veicolo con le nostre forze siamo riusciti ad andare davanti al notario e a mettere una firma e questo non è poco a proposito di quello di quelli che sono tante altre tante piccole cose che questa amministrazione sta facendo ma non solo guardate perché poi stanno incominciando man mano non voglio dire altro ma ci sono tante altre sorprese perché uno poi semina e man mano raccoglie grazie al sindaco e noi ci rivediamo prossima settimana sempre con Linea Comune anche per i nostri auguri di Natale e noi ci rivediamo